meno quattro giorni alle prove libere del gran premio di san marino a misano una gara che si annuncia molto interessante con tanti temi e spunti da valutare bagnaia viene da tre vittorie consecutive dovesse arrivare a quattro vittorie sarebbe qualcosa di storico di strepitoso la rivalità con fabio quartararo naturalmente è quella che tiene banco per il campionato senza dimenticarsi di alesce spargarò con maverick vignales che ha promesso l'apriglia tornerà sul podio a misano e ancora bastianini bastianini vorrà dimostrare che la ducati ha fatto bene a scegliere lui al posto di martin e martin vorrà dimostrare che la ducati ha fatto male a non sceglierlo per il team ufficiale insomma sono tantissimi gli spunti interessanti eppure si dice che in questo campionato del mondo manca una rivalità importante allora è vero che da sempre la rivalità è il sale dello sport in tutti gli sport mi viene in mente che ne so a gianni rivera e sandro mazzola giocatore del milan e l'inter mi viene in mente nel tennis borg mc rowe oppure nadal federer oppure nel ciclismo pantani armstrong insomma senna prost nel nell'automobilismo nel motociclismo ne abbiamo avuto tantissime di rivalità rossi biaggi rossi market viaggi capi rossi insomma sono tante lorenzo pedrosa sono tantissime è vero che in questo momento nel motociclismo non c'è una rivalità così spiccata è questo il limite della moto gp di oggi io sinceramente non lo credo potenzialmente bagnaia quartararo è una coppia da scintille scintille sportive in pista mentre fuori dalla pista questi piloti di oggi hanno caratteristiche diverse prendiamo alessio spargarò e fabio quartararo il figlio di alessio spargarò chiama fabio zio perché vivono ad andorra assieme giocano spesso assieme stanno insieme ecco questa rivalità questo modo di affrontare le corse non porta a quelle rivalità così anche drammatiche dal punto di vista sportivo che abbiamo visto in passato ma ricordiamo anche che le rivalità non si non si creano nascono così ricordiamo l'esempio più eclatante rossi market rossi market erano tra virgolette amici rossi aveva invitato mark market al ranch poi la loro rivalità è arrivata a un livello impensabile oltre anche oltre ogni limite nel 2015 ecco non è stata una rivalità creata è nata in pista da qualcosa che è successo in pista ed è quello che ha detto anche market in una recente intervista questi piloti vanno d'accordo ma nel momento in cui si sfideranno in pista succederà qualcosa in pista allora la rivalità cambierà attitudine cambierà modo di essere ecco è vero anche che ad esempio bagnali e quartararo non si sono mai scontrati veramente in pista non c'è mai stata una sfida all'ultima curva come è stata per esempio quella tra bagnalia e market ad aragon nel 2021 quando bagnalia vinse la sua prima gara in moto gp ecco io però credo comunque che i piloti di oggi abbiano un'attitudine un carattere un po' differente rispetto a quelli del passato non sto dicendo né migliore né peggiore sto dicendo solo differente io però non credo che la mancanza di rivalità in pista sia uno dei motivi di perdita di spettatori della moto gp questa è la notizia prima fila di oggi io sono lo zam vorrei sapere la vostra opinione